La gioia di una nuova vita. Sono rinate loro, 12 donne diverse in tutto, denominatore comune il tumore al seno, da cui sono guarite e del quale adesso raccontano come se nulla fosse accaduto, perché, dicono, è stato solo un incidente di percorso. Si mettono in gioco le amiche del raggio verde e Atrani. Cominciano con un calendario che significa il sorriso ritrovato, prevenzione, cura e sconfitta del male. Il futuro si guarda con gli occhi della positività, con il colore della speranza. Cosa raccontate in questo calendario? Intanto la positività, intanto il fatto, la voglia di andare oltre e di comunicare che è possibile andare oltre, avere occhi positivi e soprattutto il fatto di stare insieme. Questa è una cosa importante perché, come tutti i mammiferi superiori, anche l'uomo si difende dalle paure, stando i mammiferi e gli animali in branco. L'uomo ha bisogno di avere altri sé. I proventi del calendario serviranno a supportare i progetti di assistenza domiciliare gratuita da parte dell'Arges in convenzione con la ASL. La malattia a loro non fa paura per nulla. Io penso che l'unico modo per sconfiggere la paura, perché non credo che ci sia un farmaco contro la paura, sono le altre persone. Il sostegno, l'aiuto, il racconto, lo stare insieme, il sentirsi dire io ce l'ho fatta, ce la puoi fare pure tu.